ah adesso adesso i guardi il match di canelo dai aspetta vado a prendere dell'acqua ok ci sta ah è finito o è a tutti i carry fighter muay thai questo weekend di fuoco è finito cioè ci ha messo pochissimo sono le 5 le 5 e un quarto andiamo a farvelo vedere sono le 5 e un quarto in questo preciso istante è finito il weekend di fuoco dedicato agli sport a combattimento perché abbiamo avuto venerdì o giovedo tutta la carta di scardina lunez e poi stasera c'è stato proprio canelo contro il rim del match di jojo petrosian ve ne ho già parlato quindi non sarò qui a a tergiversarmi aspetta 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 un attimo hai visto qua qua questi fogli in questi fogli c'è scritto che la maggior parte delle persone che guarda questo video non è iscritta ti devi iscrivere capito? vai a fare queste cose così gratis muoviti ma partiamo subito con i match italiani l'abbiamo avuto una card italiana veramente di alto livello uno dei match che mi ha colpito di più è stato il match tra l'origa e esposito un match senza esclusione di colpi c'è veramente devastanti entrambi è stato veramente un match ma veramente intenso non si sono mai bloccati e la cosa che mi ha sorpreso di più che ho scritto su twitter su tutti i social del mondo è stato che l'origa ha 43 anni cioè tutto rispetto a per esposito ha fatto un match veramente assurdo ma l'origa ha 43 anni e picchia come un fabbro cioè io a 43 anni neanche saprò come mi chiamo io non farò nulla paragonabile a quello che fa l'origa cioè assurdo 43 anni e non si è fermato un secondo un match senza esclusione di colpi contro esposito ha fatto un bellissimo match anche esposito l'unica cosa che magari mi viene da ridire è un po' sui cartellini che magari questo distacco tra esposito e l'origa non c'è stato perché hanno dato veramente tanto distacco tra i cartellini di esposito e di l'origa in realtà erano molto più vicini onore a esposito bellissimo match però diciamo che il gap tra loro due era molto meno a mio parere e poi mi sbaglio però 43 anni e fare una cosa del genere e tenere testa a un giovane come esposito che ha voglia di vincere che ha una fame assurda cioè boh non so non so neanche commentarla poi passiamo ad un altro match che ha fatto veramente parlare è stato Prodan contro Cristofori un match interrotto all'ottavo round perché Cristofori si è fermato all'improvviso urlando a un caduto di paradente eccetera eccetera Prodan contro Cristofori è stato veramente un bel match anche questo qui due stili di combattimento veramente diversi Prodan cercava la corta distanza mentre Cristofori cercava per tutto il match grazie anche alla sua altezza di tenere a distanza 3-2 l'unica cosa all'ottavo round magari pecca un po' di inesperienza Cristofori che si ferma durante l'attacco di Prodan e lì sembrava inattivo e l'arbitro ha dovuto interrompere e qui questo fatto ha fatto un po' discutere ma in realtà le regole dell'IBF parlano chiaro se è veramente inattivo il pugile in quel momento e sta subendo e sta subendo solamente devono interrompere ed è ciò che è successo a Cristofori ripeto forse ha pagato un po' l'inesperienza ma sicuramente si rifarà passiamo poi al main event dove abbiamo visto uno Scardina contro Nunez match veramente veramente duro per Scardina sembrava partisse in vantaggio con i jab che cercava di tenere testa a Nunez magari un po' scarico Scardina non era velocissimo come ce lo ricordavamo però diciamo è stato un match veramente difficile che ha messo in difficoltà a Scardina che però mentalmente è riuscito a tenerli testa anche nel momento di difficoltà si è riuscito a riprendere anche dopo aver subito qualche colpo veramente duro che l'ha messo veramente sta traballando Scardina cioè era un po' così si è riuscito a riprendere e alla fine riesce a vincere per KO Nunez Nunez non è un gran nomone nel mondo del pugilato è un buon pugile che ha messo in difficoltà veramente Scardina il quale comunque ha dimostrato di avere la mentalità giusta di non volersi arrendere e di portare a casa e a tutti i costi il match ora secondo me secondo me dovrebbe concentrarsi molto di più sulla preparazione per alzare veramente l'asticella perché a suo dire se stai lì a puntare ai primi 5 rialzare un po' di più l'asticella diciamo il modulo dove vogliamo arrivare tra i primi 5 al mondo questo è l'obiettivo ci sono step da fare però tutta questa boxing night ha dimostrato che in Italia il livello di pugilato sta crescendo sempre di più ma passiamo subito prendiamo l'aeroli andiamo da zio Canelo e vediamo un po' il tempo che tu ti stavi lì ad abituare al match che stava appena iniziando tra Vildrim e Canelo e ti accorgi che Canelo è di un altro pianeta cioè Vildrim non ha potuto fare nulla ma veramente nulla hanno messo una coperta hanno messo tutte le cose sopra hanno cercato di far recuperare ma in quel ring Vildrim non è mai salito anche perché si è salendo contro un alieno cioè qui ha dimostrato che Canelo è veramente un alieno non c'è nemmeno nulla da dire perché essendo durato tre round neanche quattro round non c'è nulla da dire Canelo è praticamente perfetto ha fatto entrare già dal primo round i montanti, i diretti ha fatto entrare tutto tutto ha trovato la chiave del match penso ai primi 20 secondi del match quindi proprio letteralmente di un altro pianeta questo sicuramente era un match che lo portava poi al match veramente importante che sarà quello contro Billy Joe Sanders finalmente un match veramente di livello per Canelo cioè ecco Vildrim neanche la madre ci credeva che lui potesse vincere in questa cosa qui era quotato veramente bassi cioè era un match così camminava Canelo è entrato con una mano cioè l'ha completamente devastato in tre round ora vedremo contro Billy Joe Sanders quando andrà a finire questo fa vedere comunque che Canelo è di un altro pianeta è di un altro pianeta